musica bello a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono io, Baggio Luke e siamo in pista all'onato per le prode niente adesso la pista è un po' bagnata abbiamo fatto il primo turno ho rodato e adesso rientravo in pista ci vediamo musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti